Il valore era stato questa volta, non mi deve condannare, perché i soffersi, i soffersi, e ci voglio parlare. I soffersi, i soffersi, non si può stare nel paduro, dentro tutto faccio con i soffersi, i soffersi, e chi dice che ma sarebbe lo po' in irore, non sia più bello, e il giorno meno male, sono pure di nomato, e la pezzalina non dipinta per essere un padre, ma Daniele è cresciuta, e la Daniele è tornata, mi dobbiamo parlare, mi dobbiamo parlare. Grazie a tutti.